Il pronostico Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi esce tra Malgioglio e Ignazio? Il pronostico. Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi lascia la casa tra Malgioglio e Ignazio? Il pronostico e le sorprese di Filippa Lagerbache Damante. La finale del Grande Fratello Vip è ad un passo, ma sicuramente uno tra Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio non vedrà questo traguardo. Chi dei due abbandonerà la casa più spiata dItalia stasera? Tante le incognite, anche se il lago della bilancia pende nella direzione del ciclista trentino. Laitante Moser infatti, dopo un brillante inizio di reality, dove ha messo d'accordo un po' tutti, alla lunga sembra essere uscito un poco dalle grazie di diversi telespettatori. A non giovargli è stato il legame allacciato con Cecilia e alcuni comportamenti ripenuti da alcuni un po' troppo sopra le righe. Tuttavia, a proposito del televoto non può dormire sogni troppo tranquilli nemmeno Malgioglio. Malgioglio e Moser, Grande Fratello Vip, il pronostico di Gossip TV. Il pronostico di Gossip TV. Il pronostico di Gossip TV ha perso un po' di appello. D'altra parte dopo più di due mesi sotto i riflettori 24 ore su 24 è inevitabile che l'inflazione inizi a farsi sentire. Ma il LGF Vip è anche questo, resistenza, costanza, pazienza. Tuttavia Moser, nello scontro a due del televoto, parte con lo sfavore del pronostico. Inoltre, lui stesso, a differenza del paroliere, ha dichiarato più volte di essere pronto e contento per un'eventuale uscita anticipata. La voglia di riabbracciare Cecilia è tanta. Anticipazioni Grande Fratello Vip, in arrivo Filippa Lagerbacche e Andrea Damante. Questa sera non è facile però penso che, da quello che ho visto fuori, Naco rischia tanto. Anche perché sicuramente mia sorella lo sta votando. La dichiarazione arriva da Geremias Rodriguez, che a mattino 5, ha parlato a proposito del televoto di stasera. Oltre all'eliminazione per la serata si prevedono due importanti entrate. Stando a quanto trapelato sui social e ad alcuni indizi, nella casa dovrebbero essere in arrivo due grosse sorprese, Filippa Lagerbacche per Bossari e Andrea Damante per Giulia De Lellis. Stay tuned. Sous-titrage Société Radio-Canada